Quella politica selvaggia, che continua a essere, sedimenta, deposita, grazie a quel pensiero, stratificazioni che chiameremo morale, cioè la morale è, perché naturalmente anche la morale cambia il corso della storia, è sempre uguale, bene, però c'è sempre un'idea di giusto o di ingiusto, di civiltà versus barbarie, c'è sempre. Come c'è sempre, coerente, costante, la politica come gioco di forza. Allora, il discorso di procedere, bene, la politica come gioco di forza viene interpretata, si auto-interpreta certo, ma viene intero, siccome non c'è, come non c'è il granchi, non c'è il rapporto struttura-sovrastruttura come un rispecchiamento brutale, la filosofia può anche precedere nella sua astrazione, nel suo non aver forza. la filosofia, come dire, prepara dei quadri intellettuali che gradatamente, con tempo, seleziona ciò che gli esseri umani sono disposti ad accettare o invece rifiutano della politica. La politica è sempre e soltanto forza parziale, ma insomma c'è modo e modo di esercitare la forza parziale. Questo vuol dire che ci sono delle epoche in cui il Duca Valentino faccia squartare sulla pubblica piazza Remirro de Occo, fa parte del gioco, ed è l'esercizio della politica come forza e la morale non si scandalizza. Ci sono delle epoche in cui la politica come forza continua a essere esercitata, ma non può essere che così, però la morale si scandalizzerebbe davanti allo spettacolo di Remirro de Occo aperto sulla pubblica piazza. Che cos'è cambiato? È cambiato che la filosofia non è soltanto immediatamente, ecco, non è soltanto immediatamente coinvolta nell'esercizio del potere, è anche produzione di universali che di persino vanno a niente, di persino a niente, che però si sedimentano nella storia costruendo un progresso morale, fondamentale, il cristianesimo. Allora voi direte, beh, ecco, beh, è, è un modo per costruire la possibilità di dire politica come forza sì, Mussolini no. Perché? Perché è immorale. Perché no? Immorale che cosa vuol dire? Sostanzialmente, non spirituale, non condivisibile dall'umanità. Ecco, lui croce, si ritrova in mano, e questo può essere stato il grande distruttore degli universali, si ritrova in mano l'esigenza di un criterio di giudizio. Allora, lui dice, la filosofia non giudica, capisce tutto. La morale giudica, epoca in epoca, ciò che è accettabile da ciascuna epoca. Perché? Perché nella morale sono precipitate delle astrazioni che sono diventate concretezza del modo di pensare. Per cui, sarà astratto, allora ci sarà una politica concreta, cioè una politica capace di fare politica, e di produrre un'autogiustificazione che viene accettata dalla morale del tempo. E ci sarà una politica brutale e grossolana che esercita la forza, come fanno tutte le politiche, ma non sicura di produrre una propria giustificazione che sia accettata dalla sua parte. La filosofia capisce l'una e l'altra. La morale accetta l'una e ne dà l'una. Poi, questo è il croce che noi conosciamo, cioè il croce della storia d'Italia, della storia dell'Europa. Poi capire che quei croce ci hanno dimesso rispetto alla violenza del pensiero con cui si è rappresentato sulla scena politica. Il croce deve recuperare forme di mediazione. Il recuperare forme di mediazione, in chiave tendenzialmente antifascista, fa venire i nervi a Granchi, che dice sì, sì, antifascista. Come dice a V, in realtà questo è il moderato, che costruisce un sistema grazie al quale può dire no al fascismo. E va bene. Può dire no al fascismo per motivi morali. Dopo che è riuscito a farci capire che non c'è, che la politica non è né morale né morale, e che ogni forma di riflessione filosofica è ideologia, adesso ci viene a dire che il fascismo è immorale, cioè è sostanzialmente estraneo al progresso dell'umanità. Ma lo fa, soprattutto per dire che il marxismo non è altro, ecco, non è altro che a qualche Granchi bestialisce su questo, non è altro che un canone empirico della ricerca storica. Ma come si permette? Prima riesce a capire quel che riesce a capire grazie al fatto che legge Marx. Onde, classe Marx ha autori importanti che devi leggere perché ti insegna che a questo modo quando parli di storia, quando parli di filosofia, quando parli di ideologia, devi capire anche che ci sono gli interessi materiali. di un gioco. Cioè, allora hai costruito un sistema, diciamo, della maturità della vecchia di Croce, per fare dell'antifascismo a buon mercato, in chiave moralistica, e per sottrarti, eh, per sottrarti a ciò che inevitabilmente stava scritto nel pensiero di Nazio, la filosofia deve morire, deve diventare pratica. Altro che canone empirico per scrivere di storia. Lì c'era un'idea di fondo che era l'idea della filosofia che cessa di essere pensiero astratto e diventa pratica, azione, rivoluzione. E tu ti rinangi metà dell'idealismo, retrocedi dietro a Hegel per inventarti un universale della storia, un universale mutevole che si chiama morale, costruito attraverso le sovrapposizioni storiche delle riflessioni morale. Non solo, ma per inventarti una filosofia speculativa, cioè astratta, la fuma, che è concretissima in realtà il pensiero dei moderati che dicono passerai per questo. E la cosa fondamentale che invece vogliono è che non passi ma questo. Questo è il modo faticoso con cui Croce costruisce il tuo sistema centrale e con cui Gracie lotta per smontare. Non gli dice senso male, gli dice proprio tu credi di darci da bere che tutto è ideologia in questo mondo, cioè tutto è punto di vista parziale, tranne il tuo liberalismo, la tua religione della libertà che invece ti garantisce quel punto di vista universale grazie al quale come filosofia comprendi tutto in un giudizio e come morale sei in grado di dire fin dove è arrivata l'umanità e che cosa è accettabile dall'umanità oggi e che cosa non lo è. Guardate, queste cose vengono scritte da Trampi, da Croce e da Grange prima del Pazirio. ora voi capite che è una bella interpretazione ma dico che sia giusta interpretazione dico che è una bella elaborata interpretazione Croce è ancora filosofo perché è un moderato perché avendolo capito benissimo si sottrae deliberatamente alle conseguenze del rapporto con il marxismo e qui c'è la pretesa se sei scemo o sei scemo ma se capisci che cos'è il marxismo se lo rifiuti lo fai soltanto per così che è una bella pretesa anche questa se sei antimarxista o sei malato di mente o sei nemico del popolo in realtà è uno scontro fra filosofi di impostazione tedesca che non sono famosi per essere tolleranti o meglio sono tolleranti soltanto nella misura in cui riescono a mangiare a collocarlo in un livello inferiore del proprio discorso filosofico è un bel passaggio non visto perché quando Gramsci scriveva questa roba stava in galera e non la leggeva nessuno non capito dopo perché quando questa roba è stata letta e tutti sono diventati anticrociani e Croce stava morendo negli anni e a un certo punto non si è trovato più neanche un crociano sono stati tenuti fuori dalle cattedre dell'università eccetera eccetera perché in realtà il neo-derivismo in Italia muore nel mondo il trend cioè come esce il seinzeit tutti hanno capito che un nuovo trend della filosofia è quello nonostante il potere personale politico di Gentile piuttosto da da decifrare insomma nonostante questo nonostante la l'impronta idealistica della cultura italiana fosse molto forte se non altro perché c'era il liceo classico Gentiliano che era tanto Gentiliano quanto Crociano quanto Lombardo Radice i tre che l'ha fatto sono Crociano e non hanno fatto una cosa su hanno fatto una cosa grazie alla quale abbiamo potuto imparare a contestarla quando fai una cosa troppo brutta non insegni nemmeno a contestarla se la fai molto bella insegni anche a contestarla nonostante nonostante fortissimo influsso dell'impostazione idealistica che potenziata in storici del neo-idealismo sulla cultura italiana fino praticamente alla mia generazione il grosso della filosofia era passato da un bel po' di tempo da tutta l'impasto cioè era passato verso l'esistenzialismo verso il neopositivismo appunto questi si sono scufati mi sono potessi dire che erano astratti e hanno ricominciato a prendersi le carte per l'esistenziale negli anni 60 gli idealisti erano fuori ormai negli anni 50 entrano le esistenzialiste cattolici ci sono sempre stati non sono mai venuti tranne oggi invece sono molto più deboli per cui abbiamo sparato salve antifrogene e antigentiliane contro due che avevano smesso di esercitare l'egemonia sulla cultura italiana uno perché è morto ammazzato e l'altro perché è morto di inchiaia poi dico morto ammazzato poi ha avuto una progenie filosofica molto più numerosa di quella di Croce di Croce sapete è un mero accademico disprezzava l'università di essere un gran signore l'attifamigli e poi perché in effetti la sua filosofica nel suo nucleo originario è antistituzionale e lo dice anche il grande diceva questo qui questo qui come pensa come pensa che dalla passione si vada verso l'ordine che non è capace di pensare i partiti non è capace di pensare le istituzioni eh risposta da giovane non ci pensava da vecchio davanti al fascismo fa un discorso di istituzione cioè di ordine a partire dal discorso della moralità cioè le istituzioni sono ciò che rende i popoli civili ciascuna epoca ha le sue io non mi riccherò sul parlamentarismo però effettivamente oggi il parlamentarismo è la forma della civiltà per cui chi è antiparlamentarista è un bambano eh lo stesso lo stesso Hitler ha fatto Mosca che parte con la fortunatissima critica al parlamentarismo e finisce dicendo beh a fronte di quello che c'è fuori del Parlamento forse certo il Parlamento è una direzione dei borghesi per i loro porti comodi dunque è delimitata nel tempo non ha quel tratto di universalità che si dice però a guardare che c'è fuori forse non è una cosa così sbagliata questo quando era morto il parlamentarismo ammazzato per facere il croce non capisce l'ottine tradotto non ha una teoria del partito non ha una teoria delle istituzioni non capisce niente di pensiero giuridico sono cose che ciò non di meno ciò non di meno non è che Gracie gli dica perché non conosce il diritto costituzionale Angeli dice il fatto che tu non riesca a pensare l'ordine nasce in parte dal fatto che sei troppo attivista ma nasce soprattutto dal fatto che tu l'ordine ce l'hai già ed è l'ordine liberale che non chi ha gli ordini liberali ma chi ha gli ordini della civiltà la sovrapposizione Cogelo dice sempre io non parlo del liberalismo che come tutti gli altri istituti è parziale parlo della teoria libertà della religione della libertà alle corte stai parlando o stai parlando del nazionalismo moderno però di solito non hai sempre parlato male stai parlando di Hegel bene ma la libertà di Hegel in senso stretto come veramente universale è la libertà dello spirito cioè della filosofia di Hegel che alla fine delle fini si mangia tutto ma sa benissimo di non avere generato semplicemente si volta indietro e si volta indietro e dice ok si capisce tutto e siamo giusti sbagliati però l'unico assoluto che c'è in Hegel è quello non ce n'è in altro si capisce tutto io capisco tutto ci stai parlando di una libertà che è nient'altro che la riflessione di Hegel ripresa da te come se Marx non fosse mai esistito proprio tu che hai detto Marx e hai ben capito che cosa voleva dire sei proprio un borghese non reazionale un moderato se sei in c'è vede che razza di intemperante era Marx quella faccenda che odiava gli animi mediocre gli salta fuori da tutto l'influenza del pensiero estremistico c'è un granci di sicuro per cui croce il monumento della borghesia italiana a se stessa e al tempo stesso croce strumento ma per mangiarsi il fascismo è molto di più per mangiarsi il comunismo per ridurre il comunismo non alla sfida alla ragione moderna di cui è il continente di superamento no per ridurlo a le pretese degli operai e per ridurlo a un importante contributo alla storiografia da parte di un tizio che ci dice occhio gente che dovete conoscere l'economia politica per parlare di storia altrimenti fa parlare di che è un po' croco secondo Gransci qui vedete che oppure ancora peggio ancora peggio io dico che Gransci che croce uomo del rinascimento guicciardiniano il che tradotto con il linguaggio moderno vuol dire che è un riformis ancora peggio detto da Gransci un riformista che non un positivista cioè un socialdemocratico positivista troppo intelligente croce per essere un socialdemocratico positivista è uno che fa difesa elastica fa difesa davanti al marxismo se lo mangia con la teoria e pone le condizioni per una politica di riforme subalterno che non tocchino le strutture della società attenzione non lo ha né minimizzato né liquidato ha fatto la fatica ha creduto di farla per attraversarlo completamente prendendolo sul serio per decifrarlo non ha cioè non è un tipotino di palle presciani croce e non è nemmeno l'opera è la cosa più importante che il mondo borghese riesce a fare naturalmente il mondo borghese mangiandosi se stesso perché se il mondo borghese avesse coerenza diventerebbe comunista o fuggirebbero o diventerebbero comunisti perché se sono intelligenti capiscono attraverso Hegel ovvero attraverso croce se fosse stato all'altezza di ciò che doveva essere attraverso Hegel fai l'operazione di togliere la trascendenza e di farla coincidere con questo mondo fai l'operazione di portare la filosofia dentro questo mondo e poi ti fermi eh bravo perché hai un problema piccolo strutturale strutturale cioè sei borghese e borghese proprio perché non diventano comunisti dimostrano che la borghese ha terminato la borghese della storia vedo se fosse andato al potere uno così e avesse applicato in modo coerente questo tipo di riflessione avremmo avuto sicuramente qualche problema perché chi non è con me è come minimo gli va spiegato che deve essere con me soprattutto se è molto bravo e intelligente ma ripeto era l'epoca in cui quando si faceva politica si metteva dentro la politica la sorte personale le sorti di una società le sorti del mondo la grande politica giocata su una scena che consentiva ancora di pensare alternative o se vogliamo era uno degli effetti della rivoluzione di Bocce cioè che il trantraneo dell'Europa borghese che la stessa borghese l'interrotto inventandosi niente meno che il primo borghese era stato spezzato oltre che dalla guerra cioè da qualche cosa che avevano innescato da qualche cosa che non avevano innescato cioè da una veda offerta alternativa da un vero progetto che costringe tutti questo si fa politica a uscire dalla dimensione dell'interesse minimo parlamentare particolare e a confrontarsi con i mega problemi della storia moderna cioè che cosa è politica rispetto a che cosa è economia che cosa è società che cosa è filosofia se voi andate a fare politica oggi con questo tipo di questioni vi interno non avevano mai ricordi perché sono perché si ci sono anche oggi sono lì stanno travolgendo il tranquillo tra il tranquillo si fa per dire del neoliberalismo però è dietato guardarle non le puoi guardare meno che mai nominare perché non sa che è stato rotato e non c'è oggi la rivoluzione bolshevica che spacca e non ci sono i grandi politici che pensano aveva giusto naturalmente a momento non ci sono neanche i grandi fascisti poi gentile in questa storia che cosa c'è gentile mi dicevo è quello che ha avuto ha avuto la discepolanza accadente perché gentile era un professore universitario anzi era un mostruoso barone dell'università in realtà perché essendo povero naturalmente aveva investito sulla carriera accademica non era un latifandista come oggi e essendo barato era un applicato e da sfitto e essendo anche abile si era costruito una rete di potere e pressione anche mettendosi poi al servizio del fascismo che diceva che uno squadrista è meglio che dieci filosofi e finendo ammazzato dai partigiani comunque benché un repubblichino tentava di evitare alcune atrocità della guerra del fascismo fosse sopravvissuto avrebbe visto in troppi allievi di diventare comunisti di 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 di